Ciao a tutti ragazzi, sono Adri bentornati sul canale è la prima volta che faccio un video in macchia guardate qua faccio col telefono videocamera, insomma è quel che è volevo comunicarvi, insomma, che ho deciso di fare il video per festeggiare i 500 iscritti ragazzi, i 500 iscritti che arrivano dopo veramente tanto, 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 tanto lavoro, dopo 800 video in 3 anni dopo un mucchio di tempo investito nel canale e quindi per ringraziare tutti questi 500 iscritti ragazzi, ho deciso di fare un Q&A per chi non sapesse cos'è questions and answers se vi dicevi ragazzi, risponderò alle vostre domande ok dove come potete farmi queste domande sotto a questo video nei commenti prendo le domande ragazzi attenzione solo sotto a questo video perché se me le fate su un altro video poi ti ando veramente matto a leggere tutte o me le potete fare in direct o sotto ultimo post di Instagram quando uscirà il video con le risposte F&A ragazzi dipende veramente da voi dipende quante domande volete farmi quante domande ricevo e se ho domande a sufficienza per poter fare il video di risposta potrebbe volerci un giorno come ragazzi potrebbe volerci un anno intanto raggiungere anche i 1000 iscritti dipende ragazzi principalmente da voi più domande ho prima risponderò detto questo ragazzi io vi ringrazio il video è stato veramente corto perché il video quello bello e lungo arriverà vi invito a passare dal canale a guardare i video ovviamente trovatevi tutto di più vi ho già spiegato il link della mia pagina Instagram è in descrizione e comunque c'è anche posto sempre l'indirizzo dentro il video e quindi spero di vederci più presto per poter poi rispondere a tutte le vostre curiosità ovviamente risponderò alle domande che merita la risposta giusto sottolineare questa cosa e da questo ragazzi statemi bene e spero di vederci veramente veramente presto